Dov'andiamo di qua? Qua, fermati. Appena dove puoi, fermati. Infatti siamo già arrivati. Ma... cosa c'è qua? Niente, ci facciano lasciare qua perchè è il posto più vicino per tutti, sì. Dunque... M***e ed è pure chiuso il caso, tu, raga. Che merda. Ma non è aperto 24 ore? Ma in teoria sì, in teoria sì dovrà essere. Oh, Gabbo. Oh, eh. Datemi i 5 Royce. Tanto solo uno non ve la metto qui. Allora... Dottie di 50 che vi vorrei mettere qua. Dottie di 50? Non c'è più a provare. Dottie di 50. 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 Dottie di 50.